Musica Un cordiale saluto, ben ritrovati all'edizione esterale dedicata all'informazione. Il Consiglio Comunale di Padova ieri sera ha votato a favore dell'adesione del Comune di Padova al progetto Città Metropolitana con Venezia. L'area metropolitana tra Padova e Venezia esiste già, si tratta di governarla con un'unica regia che porterà a maggiore efficienza di governo dei processi economici e politici, ha detto il Sindaco Patavino Zannonato. Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Lagunare Orsoni che invita ad approvare in tempi brevi il riordino delle province e l'istituzione delle città metropolitane. Per il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, invece, non cambierà nulla e spiega che tutte le esperienze simili fatte in Europa sono andate fallite. E intanto domani, per quanto riguarda le province, ci sarà un incontro importante tra il Presidente dell'UPI, Antonio Saitta, e il Presidente dell'Organismo di Magistratura Contabile, Luigi Giampaolino. L'incontro, sottolinea una nota, è stato richiesto dall'UPI allo scopo di portare all'attenzione il pesante impatto dei tagli imposti dalle manovre economiche sui bilanci. Parliamo di una cronaca tragica che è avvenuta questa mattina. Verso le 11.30 nel Bellunese è precipitato un elicottero. Le due persone che si trovavano a bordo sono morte. Il velivolo era impegnato nello spargimento di bocconi avvelenati per le volpi. Un lavoro eseguito da un'azienda di Salerno che aveva vinto l'appalto dall'ULS locale. Nella tragedia, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta per capirne di più. Secondo una prima ipotesi, però, ci sono già delle possibilità. Il mezzo potrebbe aver variato la rotta a causa della foschia presente in zona e quindi sarebbe finito contro i cavi dell'alta tensione. L'elicottero poi è precipitato andando a colpire un'abitazione provocando in questo caso solo danni all'edificio. Nella casa c'erano due donne che non sono rimaste ferite ma sono sotto shock. Ci spostiamo nel Veneziano a Chioggia, un uomo accoltellato per gelosia, un medico. L'aggressore è stato arrestato. Sentiamo. È in gravi condizioni all'ospedale di Mestre, un medico di Chioggia che ieri sera è stato aggredito nel suo studio professionale. L'uomo è stato accoltellato per motivi di gelosia. È accaduto nel tardo pomeriggio, verso le 19. L'aggressore si è presentato nello studio del medico probabilmente già con le intenzioni chiare. Prima la lite, poi tra i due la situazione è sfociata in tragedia, quando l'uomo acciccato dalla gelosia ha estratto un coltello e lo ha colpito. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e l'ambulanza, allertati da chi aveva sentito le urla tra i due. Il dottore è stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre nel reparto di pneumologia toracica. Il suo presunto rivale è stato rintracciato più tardi e arrestato. Nei suoi confronti pende l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. L'uomo era andato nello studio medico con l'arma in tasca portata da casa. Incidente mortale questa mattina sull'autostrada 4, nel tratto compreso tra San Donati, Piave e Venezia Est, in direzione di Venezia, scontrarsi tre mezzi, due camion, uno sloveno e uno polacco e un Fiat Scudo. Nell'impatto ha perso la vita il conducente dello Scudo. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per ore e è stato riaperto soltanto dopo le 13.30. Grossi i disagi alla circolazione sull'intero tratto. La dinamica della tragedia stradale sarà da ricostruire. Sono volati calci e pugni ieri nel tardo pomeriggio in Piazza delle Erbe a Padova. La reazione violenta di due pusher contro i carabinieri che li stavano arrestando si è svolta sotto gli occhi di molti cittadini. Sentiamo. Ancora due arresti nella città del Santo legati al mondo della droga. Sotto controllo un'altra zona calda della città, quella delle piazze. Cuore pulsante del centro cittadino, sede il mercato ortofrutticolo al mattino, metà di passeggiate durante il pomeriggio e ritrovo serale degli studenti universitari per il rito dello spritz. Una zona però che grazie ai portici tipici di Padova permette agli spacciatori di approfittare di alcune zone buie al riparo da occhi indiscreti per lo svolgimento di attività illecite. Buio che non ha però distratto i carabinieri di Padova, impegnati in un'attività di contrasto allo spaccio al minuto nel centro storico. A finire in manette due tunisini, si tratta di Bilal Dahiri, 23 anni, e Bilal Ferchichi, appena 18enne, entrambi con una posizione irregolare in territorio italiano. I due sono stati visti cedere una dose di hashish ad un cittadino italiano. Al momento dell'arresto però la reazione dei due magrebini contro i militari, calci e pugni che hanno costretto un appuntato e un maresciallo dei carabinieri a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi in trappi di dieci giorni. I due tunisini sono così finiti in manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente e fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un sequestro preventivo di immobili, conti correnti e auto è stato eseguito dal GICO della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti di due insospettabili commercianti italiani di legname in Toscana e di un marocchino operante nell'edilizia nelle Marche, che avrebbero riciclato denaro per conto di trafficanti di stupefacenti. Il provvedimento segue un'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dall'autorità giudiziaria di Padova, che in due anni ha arrestato complessivamente 24 persone. Nel corso delle indagini e delle lunghe operazioni sono stati sequestrati 270 kg di droga e diversi mezzi di trasporto. Le indagini di polizia economico-finanziaria hanno portato quindi ad accertare il canale di riciclaggio del denaro, che i narcotrafficanti marocchini facevano finire all'estero con la complicità, secondo l'accusa, dei tre arrestati. Bimba perquisita all'aeroporto Canova di Treviso. I genitori presentano un esposto. La piccola sarebbe rimasta sotto shock. Ce ne parla il servizio. I genitori di una bimba hanno presentato un esposto denuncia alla procura di Treviso, dopo che all'aeroporto Canova il metal detector aveva segnalato un'anomalia al passaggio della figlia più piccola. I due genitori con due figlie si stavano recando a Parigi in vacanza. Al passaggio della piccola nel metal detector si è messo a suonare sia quello ad arco che quello portatile. A quel punto sono scattati i controlli e i genitori hanno dato il loro consenso per frugare nelle tasche della piccola. Ma non si è trattato solamente di frugare nelle tasche ma di una vera e propria perquisizione fatta da personale estraneo alla polizia aeroportuale e per di più in pubblico davanti agli altri passeggeri in attesa di imbarco. Un episodio che ha provocato molto imbarazzo a mamma e papà che hanno tentato di avere delle spiegazioni e nella piccola che ha trattenuto a stento le lacrime chiedendo ma perché quella signora mi ha toccato? Il padre, al ritorno dalla vacanza ha voluto parlare con il direttore dello Scalo che gli ha risposto che si tratta solamente della prassi e che i controllori hanno fatto il proprio dovere. All'annuncio dell'uomo voler avviare l'esposto e informare della vicenda un'associazione di tutela dei minori è stato cacciato in malo modo dagli uffici della direzione dell'aeroporto. La protesta degli istituti scolastici contro i tagli alla scuola e la politica di austerity del governo continua a Padova così come in tutta Italia. Gli studenti padovani hanno deciso di mettere in pratica una forma particolare di occupazione definita staffetta. Intanto continuano anche le proteste dei professori. La nostra telecamera è entrata al liceo artistico Modigliani Modigliani, da ieri scuola occupata e teatro questa mattina di una flash mob le immagini e le interviste nel servizio. Questa mattina con un giro tondo fatto di 600 paia di mani hanno abbracciato la loro scuola. Così gli studenti del liceo artistico Modigliani continuano la protesta contro i tagli e la politica di austerity del governo. Il liceo di Via Scrovegni per il secondo giorno consecutivo è occupato. Una situazione identica a quella che si sta verificando l'Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci e che nei giorni scorsi ha visto scendere in campo l'Istituto Tecnico Scarcerle, il liceo Fusinato e molte altre scuole della città ma anche della provincia perché la protesta si è stesa anche a Cittadella con Selve e Abano Terme. Tutto ciò è scaturito dall'essere non favorevole alla politica di austerity, dai tagli che continueranno nel 2013 e dal fatto che comunque noi studenti non veniamo assolutamente ascoltati perché chiediamo ogni volta che la scuola migliori, che torni a essere la scuola di un tempo o che comunque segue gli standard europei che la scuola, visto che il ministro ci dice che noi dobbiamo adeguarci agli standard europei, però siamo gli ultimi su 33 nazioni ad investire in base al numero di PIL che investiamo. Quindi noi chiediamo almeno, appunto come chiede lui, l'unione agli altri stati, agli altri paesi europei. Dentro l'edificio nessuna confusione, ma gruppi organizzati di lavoro con un calendario che ora dopo ora scandisce le attività che si possono fare e che variano dal cineforum alla lettura dei quotidiani, dai dibattiti agli approfondimenti sui temi di attualità. E c'è anche chi ha detto alle pulizie. Del resto il cartello sulla porta d'entrata parla chiaro, c'è un regolamento da rispettare e chi rompe paga. Libero accesso alla scuola è consentito ai docenti e soprattutto vengono garantite le lezioni per chi non aderisce alla protesta e vuole continuare a studiare. Insomma, qui i ragazzi ci tengono a precisare che non si viene per perdere tempo, ma per dimostrare che così non va. Troppi tagli equivalgono a rendere sempre più sterile un'istituzione fondamentale come quella della scuola. Per questo la protesta in corso è un fronte compatto di istituti. Prima di tutto volevamo infatti non ritrovarci né soli e neanche buttare all'aria quello che gli altri stanno facendo. Quindi infatti a staffetta ci siamo uniti alle altre scuole dando comunque un appoggio unitario. quindi infatti abbiamo collaborato tra di noi, tra informazione, assemblee anche con le varie formazioni che è appunto il CRI in cui si è appunto parlato di fare una cosa che ne valga veramente la pena. Quindi infatti ci siamo uniti in maniera tale da non risultare solo come scuola ma da risultare in maniera unitaria e quindi di avere maggior impatto da questo punto di vista. Ma a dire no non solo i ragazzi perché anche dal punto di vista degli insegnanti il futuro della scuola così come progettato non funzionerebbe. Ecco perché stamattina ad abbracciare il Modigliani c'erano anche le mani dei docenti. Questa cosa è iniziata in molte scuole d'Italia partendo dal basso in realtà non c'è stato nessun non c'è stata un'organizzazione sindacale che ha detto qualche sindacato che ha detto ah sta succedendo questo. Siamo stati proprio un insegnanti tutti infatti se andate a vedere anche in tutte le scuole la mobilitazione è generale non è non è legata a qualche sigla questo perché allora è nata così perché ci fa capire quanto poco si si è valorizzato il lavoro degli insegnanti. Così gli insegnanti lo scorso 29 ottobre con un'assemblea sindacale hanno deciso di far scattare il blocco delle attività aggiuntive niente più progetti dunque corsi di recupero e gite. Noi questa protesta abbiamo deciso di continuarla fino a che il testo non uscirà un testo approvato di legge di stabilità in cui chiaramente non ci sia più nessun riferimento alla scuola. Le cose da fare nella scuola sono molte io spero anche che il movimento che si è creato adesso non non svanisca poi così nel momento in cui questa legge spero che passi senza nessun riferimento più alla scuola insomma. ieri al liceo scientifico Cornaro si sono riuniti intanto tutti i rappresentanti di istituti delle scuole superiori che hanno indetto per sabato pomeriggio una manifestazione pacifica il corteo fatto di fiaccole partirà da Palazzo Moroni e si snoderà per le vie del centro per poi tornare nuovamente sotto al comune è stato individuato l'autore di una brutale aggressione nei confronti di un musicista un'aggressione avvenuta a croce di Musile di Piave lo scorso 9 luglio l'artista aveva suonato con una band in un locale della zona e poi aveva dormito fuori da un camper la mattina però il risveglio era stato terrificante un 28enne lo aveva aggredito con il manico di un ascia accusandolo di aver fatto rumore tutta la notte di non averlo fatto dormire la vittima aveva riportato delle lesioni guaribili in 40 giorni a identificare l'aggressore che ora è stato arrestato sono state le indagini dei carabinieri di Venezia con il supporto dei colleghi di San Donà una donna di 58 anni che stava rientrando nella sua abitazione in un quartiere residenziale di Vigonza nel Padovano ha sorpreso due sconosciuti sul viale di casa insospettita per la loro presenza ha tentato di bloccarli ma mentre uno si è dileguato velocemente l'altro l'ha fatta cadere a terra sono stati attimi concettati nei quali la donna è caduta procurandosi fortunatamente delle scoriazioni solo leggere una volta giunta in casa però ha scoperto che l'abitazione era stata visitata dai ladri probabilmente gli sconosciuti che aveva trovato nel viale tutto era a soquadro fortunatamente però non era stato rubato nulla sul posto sono giunti i carabinieri di Vigonza che hanno raccolto la testimonianza di quanto accaduto secondo la descrizione i due individui avevano la testa rasata e un'età di circa 24 25 anni arriva il via libera del Consiglio dell'Unione Europea che ha sbloccato i 670 milioni di euro a favore delle zone terremotate colpite dal terremoto dello scorso fine maggio domani si chiude l'iter legislativo con voto del Parlamento europeo sentiamo circa una settimana fa i ministri per gli affari generali dell'Unione Europea hanno formalizzato l'intesa raggiunta dall'Ecofin confermando il via libera agli aiuti comunitari per il terremoto in Emilia il pacchetto per sganciare gli aiuti è composto da altre integrazioni al bilancio dell'Unione Europea 2012 e dal bilancio 2013 tutte questioni rimaste bloccate dallo scontro che si era aperto tra Commissione Consiglio e Parlamento europei la chiusura dell'iter legislativo relativo ai 770 milioni stanziati nell'ambito del fondo di solidarietà in favore dei terremotati di Emilia Veneto e Lombardia è prevista per mercoledì 21 novembre quando anche il Parlamento riunito in seduta plenaria sarà chiamato a dare l'ultimo e definitivo sì all'erogazione degli aiuti intanto dopo circa sei mesi dalla prima scossa del terremoto che ha messo in ginocchio l'Emilia i risultati sono davvero eccellenti il presidente della regione Vasco Errani si ritiene molto soddisfatto dei risultati raggiunti in così poco tempo anche se molti problemi e disagi rimangono i lavori fatti sono stati tanti oltre che aver gestito 40.000 sfollati sono state costruite in poco più di 40 giorni scuole e riparate altre 356 e messo in sicurezza oltre 600 monumenti e chiese è stato molto positivo ha sottolineato il presidente anche il rapporto con il governo nessuno all'indomani del sisma tra imprenditori sindaci e cittadini avrebbero pensato sarebbe stato possibile realizzare un risultato così eccellente arriva il reddit test da oggi si trova in internet ma chi spende quanto guadagna può stare tranquillo allora scopriamo di più dal servizio da questa mattina il temuto reddit test è online ora tutti i contribuenti potranno così verificare la compatibilità fra reddito familiare e spese sostenute intanto proprio da una simulazione dell'agenzia delle entrate sulle famiglie italiane emerge come quasi 4 milioni e mezzo circa il 20% risulta non coerente nel confronto tra le spese sostenute nell'anno e i redditi dichiarati il reddit test è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno e oggi l'agenzia delle entrate ne ha svelato il funzionamento per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia il comune di residenza e vanno poi inserite le spese più significative sostenute dal nucleo familiare durante l'anno le voci di spesa sono aggregate in 7 categorie abitazione mezzi di trasporto assicurazioni e contributi istruzione tempo libero cura della persona spese varie investimenti immobiliari e mobiliari netti per utilizzare il programma è necessario scaricare il software e inserire i dati richiesti in questo modo le informazioni restano sul proprio computer senza lasciare alcuna traccia sul web inoltre sarà possibile modificare o integrare le informazioni riportate in qualsiasi momento Attilio Beffera direttore dell'agenzia delle entrate sostiene che il ready test sarà un problema solo per gli evasori se uno non è evasore e spende quello che guadagna o ha risparmiato non ha nulla da temere il problema ce l'avrà chi è evasore perché con i soldi che evade danneggia la nostra economia siamo giunti alla conclusione di questa edizione del telegiornale uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani le condizioni saranno buone con cielo sereno comunque poco nuvoloso ci saranno anche dei momenti soleggiati probabile qualche foschia nelle prime ore della mattinata è tutto per questa edizione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci a domani a domani